Quando hanno assegnato il Nobel per la pace all'Unione Europea, Romano Prodi ha detto su Rai News 24 che ci sono voluti 50 anni per l'Unione Monetaria e ce ne vorranno altri 50 per un'Unione federale, perché la democrazia è lenta. Lei cosa ne pensa di questa dichiarazione? Il giorno che l'Unione Europea ha ricevuto il Nobel, Romano Prodi ha detto che abbiamo bisogno di 50 anni per creare questa Unione Monetaria e 50 più anni sono necessari per realizzare l'Unione federale, perché la democrazia è lenta. Che pensate di questo? La città europea, l'euro, non ha nulla con l'Unione Europea. La città europea è la maggior parte della città europea, perché la città europea è tirando la comunità ma la città europea è assoluta, ma la città europea è assoluta che c'è un senso di humor in Scandinavia.